Buonasera e ben ritrovati cari amici, sono in vacanza come potete vedere, per chi mi segue da un po' di tempo ricorderà l'anno scorso le nostre puntate notturne per raccontare la fase finale di Champions League in quella strana e bizzarra estate e siamo di nuovo qua. Siamo in questa stanza meravigliosa dell'albergo che non solo è la stanza libreria come potete vedere ma si può giocare anche a scacchi, ho trovato niente proprio di meno che la bambola di Suelen questa è una citazione per qualcuno di voi che mi dirà da quale firma è tratta. Salutiamo questa inquietante bambola e veniamo alle cose di oggi. Allora, ci sono tre notizie che sono uscite tra ieri e oggi che in un certo senso si intrecciano tra di loro e che riguardano il Milan e l'opinione che ancora tanti tifosi hanno della nostra proprietà, quindi del fondo Elliot. La prima notizia è quella relativa, è di oggi, relativa al ritorno nell'ECA di Juventus, di Milan e Inter con Juventus, Barcellona e Real che restano invece fuori da questa organizzazione che è un'organizzazione che da un punto di vista della sua descrizione è l'associazione dei club europei un organismo che rappresenta le società calcistiche a livello europeo. Lo scopo della ECA è quello di proteggere e di promuovere il calcio dei club europei. è un'associazione che è nata con il beneplacito della UEFA e della FIFA ed è una sorta di agglomerato, diciamo, parallelo ma in un certo senso poi estensione delle varie federazioni che serve a promuovere determinate azioni relativa agli interessi dei club. Naturalmente l'uscita, poi ricorderete la questione della Superlega che è durata al tempo come dire di uno sbadiglio e che ha portato al cambio ai vertici dell'ECA da Andrea Agnelli a anche la IFI che è anche il proprietario del Paris Saint Germain. Quindi direi che un pochino, come sempre, le federazioni, le associazioni internazionali del calcio se la suonano e se la cantano tra di loro, l'idea della Superlega a quanto si legge anche dal comunicato che riammette queste squadre, diverse squadre, all'interno di questa associazione come Atletico Madrid e le sei squadre inglesi, hanno definitivamente, diciamo, sotterrato l'ascia di guerra relativa alla creazione di una Superlega e sono partiti, diciamo, con la voglia di ritornare all'interno di questa associazione con scopi che ci verranno rivelati nel tempo perché io non credo sinceramente che il progetto di un qualcosa di alternativo sia del tutto morto bisogna trovare ovviamente, diciamo, l'escamotage per riuscire a non andare in guerra con la UEFA e dall'altra parte la UEFA, come saprete, sta cercando di trovare delle soluzioni per evitare lo scisma di questo calcio che fa fatica a stare in piedi a proposito di calcio che fa fatica a stare in piedi la seconda notizia è quella relativa al Barcellona il presidente del Barcellona la porta, lancia l'allarma e dice bilancio in rosso per 481 milioni di euro naturalmente la sua conferenza stampa è una conferenza stampa propedeutica un po' giustificare il fatto che Messi non abbia rinnovato cosa che invece lui aveva in un certo senso promesso nel momento della sua candidatura alla presidenza del Barcellona e anche poi a sottolineare il periodo difficile con fatturati che rallentano nel caso del Barcellona lui non lo dice ma lo possiamo dire noi gestioni tecniche e gestioni anche di amministrazione di scelte dal punto di vista dei calciatori assolutamente sbagliate che hanno creato un monte ingaggi pazzesco e hanno creato un problema attuale a Barcellona perché ha dei giocatori che vorrebbe anche cedere ma che altre squadre non possono prendere perché gli ingaggi non sono sostenibili nonostante un fatturato di 631 milioni di euro le perdite le spese sono state 1 miliardo e 136 milioni di euro con perdite di 481 milioni di euro quindi ci sono dei grossi problemi poi che questi allarmi che questi avvertimenti vengano fatti per secondi fini noi non lo sappiamo quello che sappiamo è che la barca del calcio spagnolo che sostanzialmente vive sulle gesta di due squadre e mezza Real Barcellona e Polatetico Madrid nell'ultimo decennio viene sempre tenuta a galla attraverso un sistema di finanziamento anche di prestiti da parte di banche lo stesso Barcellona ha ricevuto diversi prestiti anche da Goldman Sachs a tassi anche piuttosto interessanti un prestito da 525 milioni all'1,9% e quindi nonostante tutto questo la situazione appare drammatica la situazione che appare drammatica perché chiaramente c'è stato tutto quello che sappiamo ci sono stati dei problemi con gli introiti di stati chiusi e nel caso loro anche mala gestione e veniamo alle questioni di Milan allora la cosa che può riguardare noi è una voce che Carlo Festa un giornalista che segue diciamo le cose di società economico-finanziarie del Milan e anche dell'Inter in questo caso scrive Inter e Milan sono potenzialmente entrambi in vendita beh questo credo che non sia una novità e tra l'altro potenzialmente diciamo l'Inter se avesse trovato subito un acquirente probabilmente Suning avrebbe ceduto Elliot si avvicina alla fine dell'orizzonte temporale del suo investimento gli investitori potranno scegliere tra due squadre di Milano e qui entriamo nel merito della nostra proprietà allora leggo ancora molti commenti sento ancora molti tifosi che si scagliano contro Elliot dicendo che non ha voglia di investire che non ha interesse a ottenere risultati sportivi tutto quello che vuol fare è sistemare i bilanci e poi cedere questo suo asset beh allora da un punto di vista diciamo così formale sì effettivamente credo che questa cosa corrisponda alla verità non c'è una spinta all'ottenimento del risultato per una soddisfazione personale del proprietario che non c'è in questo caso perché essendo un fondo per sua natura non ha una persona ma ormai diciamo che nel calcio di oggi le squadre che hanno un presidente che volgarmente spende e spande non è che siano più tantissime sinceramente lo stesso Manchester United che ha una proprietà anche molto contestata ha avuto anche dei giochi finanziari abbastanza particolari nel trasferimento fondi da quelle che sono le entrate della squadra a quelle che sono poi fondi e altri asset della sua proprietà pensiamo che le squadre diciamo che negli ultimi anni hanno speso tanto sono il Chelsea indubbiamente che ha un proprietario riconosciuto che ha un padrone proprietario, un presidente e naturalmente il Manchester City e il Paris Saint Germain poi dopo il Reale e Barcellona hanno strutture societarie diverse con il discorso per il Barcellona dell'elezione del presidente e quant'altro ma tutte quelle società che riconducono a dei fondi che riconducono a dei gruppi hanno dovuto far fronte e a un certo tipo di situazione economica soprattutto hanno meno interesse rispetto a questi proprietari affinché i risultati sportivi siano superiori a un'occulata gestione finanziaria guardando poi nel complesso il mercato di questa estate a parte il Paris Saint Germain e a parte i soldi letteralmente buttati via da Manchester City per Grealish però e naturalmente la campagna acquisti del Chelsea che comunque ha appunto una situazione diversa per aumento di fatturato per la vittoria della Champions League per tante ragioni ma anche le altre squadre inglesi si sono ben guardate in questa sessione estiva dal buttare i soldi cioè da spendere 30, 35, 40 milioni di euro per non lo so un difensore centrale di una squadra di di zona retrocessione cosa che invece accadeva fino agli anni scorsi adesso anche lì c'è stato un freno se voi andate a leggere il mercato ad esempio delle squadre spagnole vi renderete conto che praticamente sono ferme il Barcellona ha preso i giocatori ma erano quasi tutti svincolati e comunque ancora problemi perché nulla osta per poter far giocare De Pai ieri è arrivato praticamente poco prima della partita quindi ecco in questo contesto avere una società che una proprietà che guarda il bilancio mi rendo conto che sportivamente parlando per un tifoso possa essere in un certo senso castrante per quelle che sono le ambizioni nostre ma in questo momento credo che potrebbe essere conveniente ragionare nell'ottica della prospettiva cioè sappiamo tutti che Elliot è una proprietà di passaggio sappiamo tutti che la transizione da una finale malagestione della presidenza Berlusconi attraverso a quell'impiccio con Jong-un Lee dai contorni ancora poco definiti adesso è una transizione necessaria perché i come dire i malanni dei padri sono ricaduti sui figli ora i figli sono questi qui sono questi ragazzi che comunque cercano di fare il meglio che l'anno scorso hanno ottenuto un risultato che comunque non riuscivamo ad acchiappare da più di un lustro anzi da quasi due lustre ci vuole secondo me un po' di razionalità è evidente che la natura stessa del tifoso non contempli più di tanto questa parte quindi la parte razionale però è anche vero che a fronte di un bilancio come quello che avevamo a fronte delle punizioni che abbiamo preso dalla UEFA per il prefinanziario poi si potrebbe aprire tutto un discorso perché certe pene cadano solo addosso vengano come dire vengano decise solo per certe squadre vabbè questo è un altro discorso però abbiamo dovuto far fronte a tutta una serie di cose è evidente che il contenimento dei costi non può andare di pari passo con l'acquisto di grandi campioni è anche vero che dall'altra parte in molti vedono il Milan e la proprietà la dirigenza del Milan come un modello da seguire come un riferimento per quello che è un equilibrio tra una squadra il più possibile competitiva e un bilancio il più possibile in ordine un bilancio in ordine non solo per l'immediato ma ripeto anche per il futuro perché poi c'è la questione dello stadio naturalmente sappiamo tutti che il grosso dell'interesse di Eliott è lo stadio o per meglio dire è tutto quello che c'è intorno allo stadio era probabilmente una parte importante anche dell'investimento di Sunini le cose poi sono rallentate io a questo punto ho anche perso la speranza sinceramente perché siamo rimasti ancora a quattro slide mostrate con i progetti e quant'altro ma sì le discussioni ogni tanto parla il sindaco siamo anche in campagna elettorale quindi è chiaro che tutto questo come dire è difficile che a breve veda la luce per cui quello snodo potrebbe essere interessante capire se effettivamente l'intenzione di Eliott era quella in ogni caso a prescindere da come fosse andata la questione dello stadio di intraprendere un certo tipo di percorso per sistemare le cose e poi rivendere oppure se il business stadio e tutto il suo contorno fosse realmente primario nello sviluppo di questo piano aziendale che contempla la CIMILAN sono ragionamenti che vanno contro quelle che sono le passioni quelli che sono gli aspetti emotivi quelli che sono quella che è la voglia del tifoso ma io credo che dovendo ragionare in una società come quella attuale che deve far fronte a tutti i livelli e in tutti i settori a una crisi che è diventata ovviamente economica perché come tutte le crisi prima nascono e sono magari finanziarie che poi dopo si riversano sulle economie in questo caso sono pandemiche che poi si riversano sulle economie ecco credo che tutto sommato in questo mare in burrasca il Milan si sia mantenuto a un buon livello proponendo un modello di gestione sicuramente più oculato rispetto ad altri che non possa andare bene al tifoso me ne rendo conto che però si debba convivere con questa situazione è altrettanto secondo me è vero è altrettanto utile per anche in un certo senso per ricondurci alle cose di campo e aspettare lo sviluppo degli eventi mi ha scritto un amico del canale dicendo perché non fai un video dicendo che Elliot non vuole spendere un quattrino e basta beh amico mio sì lo posso anche fare ma voglio dire sai che come dire lo stile e l'impostazione di questo canale che poi rispecchia le mie idee non è quello di fare dei video dove si parla per dieci minuti un quarto d'ora male della proprietà per non lo so per acchiappare una decina di iscritti in più qua cerchiamo di fare dei ragionamenti un pochino più dettagliati il ragionamento dettagliato mi fa pensare che anch'io vorrei un proprietario come quello del Paris Saint Germain fermo restando che come vi ho già detto altre volte aspettiamo e vediamo che cosa succede dopo i mondiali in Qatar perché è un altro snodo importante di tutta la questione però ecco mi sento di predicare come dire l'amore nei confronti dei nostri colori e l'accettazione della situazione è evidente che come dire il tifoso può supportare il tifoso può decidere di non fare gli abbonamenti di non guardare partite di non comprare merchandising ha strumenti comunque nel suo piccolo per cercare di andare contro a una determinata situazione che non gli va ma questo va a scapito di un progetto che per quanto possa sembrare povero per quanto possa sembrare anemico per quanto possa sembrare così a risparmio rispetto ad altri ha comunque prodotto una base di squadra competitiva ha prodotto un miglioramento del bilancio e questa cosa secondo me poi ci sarà vantaggiosa in avanti il tutto dovendo combattere con delle regole che sono inique perché lo vediamo tutti e quelle che arriveranno del nuovo fair play finanziario lo saranno ancora di più ma che cosa ci dobbiamo fare se a uno non sta bene questa cosa allora la smette di seguire il calcio e si dedica a magari sport che ritiene possono essere meno influenzati da quelle che sono le dinamiche economico finanziarie questo è il mio pensiero attendo i vostri e buonasera